Cari telespettatori benvenuti a Primo Cittadino come ogni lunedì alle 19 siamo in diretta per parlare insieme ai sindaci del nostro territorio. Oggi è tornato nei nostri studi il sindaco di Vallefogliano che è senatore Palmiro Ucchielli. Buonasera e bentornato sindaco. Grazie. Direi intanto di farvi vedere i numeri di telefono che rimangono in sovraimpressione e di partire dalla notizia che avete dato nei giorni scorsi ovvero quella dell'approvazione del bilancio di previsione. Siete stati uno dei primi comuni in Italia ad approvarlo così in anticipo. Dobbiamo dire con un solo voto contrario e soprattutto con un bel tesoretto grazie alla fusione sindaco. Sì, diciamo aver approvato il bilancio come consuetudine entro l'anno prima delle feste di Natale. Quest'anno abbiamo deciso di anticipare e l'abbiamo approvato appunto il 31 ottobre, credo uno dei pochi casi in Italia, con un dato importante che consenta alla struttura di andare avanti non spendendo in dodicesimi ma spendendo le cifre che sono nel bilancio, un bilancio poco più di 15 milioni. Abbiamo avuto 3 milioni di avanzo grazie alla fusione e quindi alla razionalizzazione della struttura che abbiamo eliminato tutti i doppioni, c'erano 8 capi servizi, sono 4 e quindi per dire che ci ha consentito grazie ai soldi che abbiamo avuto sulla fusione di avere circa 15 milioni in questi 9 anni e di avere altri 8 milioni per i prossimi 5 anni. Chiunque governerà Vallefoglia avrà questi milioni e 6 all'anno per 5 anni e quindi una comunità che beneficia di risorse importanti per i cittadini, quindi le fusioni servono alla comunità, ai cittadini, alle imprese e non a chi pensa ai posti. Tra poco le chiederò anche poi queste risorse dove sono andate a finire perché le avete spese molto bene, insomma sono stati anni di belle e importanti inaugurazioni ma volevo sottolineare anche il fatto che questa approvazione è importante anche per gli uffici, proprio per mettere in pratica tutto ciò anche a livello burocratico da gennaio 2024. Gli uffici possono dal giorno dopo, dal primo di novembre, spendere tutte le risorse che sono previste, quindi hanno la piena possibilità di attuare le decisioni approvate al Consiglio quasi all'unanimità, con un solo voto contrario. Le risorse sono state destinate diciamo circa un milione e sei dai fondi della rigenerazione urbana sul Palazzo dello Sport che lo porteremo a dieci metri a mille e cinquecento posti, più 800 mila euro dall'avanzo, due milioni e quattro per giocare alla pallavole femminile di Serie A e anche pallacanestro non solo per i campionati italiani per i campionati europei. 900 mila euro dalla rigenerazione urbana che è fuori bilancio da fondo per due dello Stato sulle mura castellane di Colbordo, consentendo i tre castelli di avere anche mura risistemate, messe in sicurezza e magari rendere fruibile attraverso un accordo con l'Università di Urbino con altre risorse che abbiamo già a disposizione. Un milione e due cento mila euro per il nido perché un buon 80% dei 180 posti dell'asilo nido, 120 che c'erano già più 60 nuovi posti dell'asilo sono prevalentemente dei comuni di Tavuglia e Vallefoglia ma anche degli altri comuni perché a differenza di qualche difficoltà che esistono anche a Peserofano noi abbiamo 60 posti nuovi, 40 già prenotati e 20 a disposizione anche per tutti i comuni confinanti che vanno anche al di fuori di quelli dell'Unione, penso a Montalabate, penso a Durbino, penso a Mondaino tutti i comuni che hanno fatto domanda. Quindi e poi abbiamo messo un milione e cento per quel che riguarda diciamo gli asfalti, molti già realizzati e altri che vanno in appalto, abbiamo messo diciamo dai fondi dello Stato 900 mila euro per rendere più sicuro uno dei principali fossi che passano dentro Montecchio, forse diciamo a taccone, abbiamo messo 70 mila euro sempre in quelli direttamente dal bilancio, abbiamo messo 200 mila euro sulla piazza della Repubblica di Montecchio, potrei continuare a dare tutti i dati perché sono state tantissime le risorse, 100 mila euro nella palestra di Morciola, abbiamo fatto in questi anni raddoppio di depuratore, comune nuovo, piazza nuova e adesso inaugureremo a Natale il nuovo teatro Giovanni Santi che è il secondo teatro di Vallefoglia, quindi Vallefoglia che è in controtendenza con le nascite, non è che mangiano, bevono e fanno i figli, mangiano, bevono, lavorano perché la città del lavoro è una città industriale ma è anche una città che è molto attenta ai temi dell'ambiente, dell'ecologia, della sostenibilità, non è un caso che siamo entrati nella rete dei comuni sostenibili e diciamo è un comune che realizza tante 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 opere pubbliche, quindi diciamo che siamo un po' in controtendenza su tutto, lavoriamo a velocità supersonica e che il bilancio ne è un esempio palpabile quotidianamente. Poi stiamo cercando di interloquire per potenziare la Casa della Salute, oggi il Presidente e il Vice sono in Consiglio Comunale a Pesaro, quell'ospedale diciamo non è di Pesaro e di tutti i comuni almeno dell'area del bacino del compensorio pesarese, il problema è potenziare molto la Casa della Salute di Vallefoglia e di Montecchio perché serve più di 50.000 abitanti quella Casa della Salute e uno perché per piccoli interventi deve andare a Pesaro, a Fano, a Urbino oppure in Emilia Romagna spendendo una barca di soldi verso la sanità dell'Emilia Romagna. Quindi Vallefoglia assume oramai una centralità essendo la terza città della provincia in tutti i sensi, nel senso che è previsto già un nuovo supermercato, noi abbiamo approvato il piano regolatore, il 16 faremo un Consiglio Comunale per approvare le varianti al piano regolatore prima che approvano questa legge regionale che ci riporta 40 anni indietro perché mette i pareri vincolanti della sua intendenza, riporta tutto negli uffici regionali. Io penso che il Consiglio regionale debba riflettere perché la legge che c'è già funziona, funziona bene e più celera nello sviluppo economico dei territori marchigiani. Fare una legge di questo tipo, ho visto che verrà discussa mi pare venerdì prossimo proprio qui a Fano, mi pare una cosa non buona, una cosa che blocca lo sviluppo economico della regione Marche. Sindaco, torniamo un attimo indietro per parlare del bilancio di previsione, è l'ultimo di questa legislatura, che cosa pensa di aver lasciato? Ma io penso insieme, ringrazio... E che cosa lascerà, visto ancora tutti i lavori in programma? La Giunta e il Consiglio Comunale, di aver fatto quasi tutto, perché insomma solo per la depurazione dell'asta fluviale si era doppiato il depuratore, abbiamo fatto tutte le opere che erano di primaria importanza, abbiamo attivato tutte le aree attraverso la pianificazione urbanistica e territoriale più strategiche, perché il problema di quell'area, di quel territorio è la casa. Chi verrà dovrà solo far funzionare bene quello che c'è, perché sono tante, tantissime le cose che riguardano anche la manutenzione idraulica del territorio, diciamo la protezione civile, abbiamo rinnovato tutto il parco macchina ai nostri dipendenti per tutte le emergenze, ahimè perché già cominciano anche questi giorni il vento, i temporali, quindi bisogna badare molto alla gestione del territorio e quindi lasciamo la situazione che era un po' anche la mission che mi è stata affidata nove anni fa, quindi a giugno del 2024 chi verrà avrà la possibilità di andare in un comune nuovo bellissimo, di una piazza enorme, con tutta l'asta di punizione del fiume già realizzata, con un teatro nuovo, anzi due, perché il teatro Branca di Sant'Angelo Lista è il teatro delle colline che serve anche per le frazioni di Pesaro, di Montecicardo e di Ginestreto e poi il teatro Giovanni Santi, noi saremo capitale della cultura italiana la prima settimana, il primo comune sarà Vallefoglie perché gira un po' in tutti i comuni e l'ultimo Urbino, dal 22 al 28 faremo diversi spettacoli importanti in quella settimana e speriamo, parlando un po' anche con la Presidenza della Repubblica e con il Sindaco di Pesaro che ringrazio, se dovesse venire Mattarella spero che possa inaugurare uno dei pochi teatri che si inaugurerà certamente nelle Marche, nella provincia di Pesaro Branca, ma forse anche in Italia, ecco quindi diciamo che siamo un po' in controtendenza perché non vedo in una fase come questa che si inaugurano i teatri, ma la gente ha bisogno anche di cultura come il pane, come il lavoro perché non può essere una realtà enormemente cresciuta, sviluppata, dove c'è la piena occupazione, anzi vengono dall'Italia del mondo, dal sud dell'Italia del mondo, a Vallefoglia perché trovano lavoro e trovano una città anche sicura perché l'inclusione di tante realtà dal sud, dalla Puglia, dalla Campania, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Sardegna, ma soprattutto dalla Romania, dall'Albania, dal Marocco, da molti paesi e non sono mai successe cose gravi perché insomma c'è una realtà multireligiosa, multiculturale che farla diventare una città e una comunità non è una cosa proprio semplice, devo dire che ho avuto anche belle soddisfazioni insomma ecco da questo punto di vista. Ha parlato Sindaco anche di sicurezza e proprio nei giorni scorsi, la scorsa settimana nella sede dell'Unione dei Comuni del Pian del Bruscolo avete presentato questo sistema di videosorveglianza di sicurezza che tocca appunto diversi comuni, tra cui Vallefoglia. 350 telecamere di cui quasi una settantina su Vallefoglia insieme agli altri cinque comuni dell'Unione sono un esempio di come si può contribuire perché è un compito specifico il Ministero degli Interni ad avere una comunità più sicura perché non è che sono per controllare le persone per bene, che si comportano bene, che rispettano il codice della strada, che non sono malavitosi, ma è di contrasto alla malavita, è un modo per educare alla legalità perché queste telecamere sono nei centri nevralgeni, infatti non abbiamo detto dove sono, sono centri importanti perché chi viene per delinquere sa che può essere ripreso e controllato e consegnato alla giustizia, insomma. Oltre anche ai targassiste. Sì, questi sono strumenti importanti perché spesso e volentieri chi guida l'auto è senza patente, senza assicurazione, senza revisione della macchina. Oppure la rubata. Oppure la rubata, quindi è pericolosissimo, questi strumenti controllano anche questi aspetti della sicurezza e della viabilità e del rispetto della legalità. Avete tra l'altro rinnovato anche la convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri, anche loro danno un importante supporto nelle attività quotidiane. Sì, noi abbiamo un buon volontariato, volontariato di protezione civile, volontariato degli ex carabinieri che quando si arriva nel comune di Vallefoglia, loro con un piccolo rimborso, tutto volontariato, dicono scusi lei chi è? Con chi ha bisogno di parlargli? Danno prima informazioni, li accompagnano o dal sindaco o dagli assessori negli uffici e fanno veramente un ottimo lavoro, quindi va a un grande ringraziamento. Poi adesso a 25-26 in anteprima la DO faremo l'autunno di Vallefoglia, proprio nella piazza del municipio, che è una bella piazza, con i giochi d'acqua, una cosa molto simpatica che normalmente si trovava in Emilia Romagna, e lì, diciamo, mostreremo tutti i prodotti. Adesso quest'anno c'è un po' di difficoltà nell'olio d'oliva, nella quantità dell'oliva, nella qualità dell'oliva, però l'olio, quel poco che c'è, è di grande qualità. Oppure il tartufo, bianco e nero, oppure il miele, tutti i prodotti tipici locali, oppure il melograno, ecco, tutti questi prodotti della nostra terra, dei nostri territori, delle nostre vallate, verranno un paio di giorni, 25-26, esposti nella città di Vallefoglia. Solo il Giardino dei Colori, questi giovani ragazzi che hanno provato ad avere un approccio con l'agricoltura, hanno avuto migliaia, migliaia, migliaia di persone che sono andati a visitare quelle zucche per, diciamo, ricordare la festa di Halloween e che ha creato tanta, diciamo, curiosità, famiglie intere con i bambini e hanno avuto forse anche qualche entrata, insomma, queste zucche le vendevano, tutti i prodotti della terra che vendevano saranno forse presenti anche loro, quindi la curiosità è importante, anche se è il mese di novembre, però è l'autunno. Eh beh, certo. Sento un attimo la regia, se dobbiamo andare in pubblicità o se possiamo trattare un altro argomento, ditemi voi. Eh, pubblicità. Ci fermiamo allora per qualche istante e poi torniamo qui con il Sindaco di Vallefoglia. A tra poco. Bene, siamo di nuovo in diretta con il Sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Sì, abbiamo prima parlato degli asfalti, Sindaco, dunque la sicurezza stradale, non solo telecamere ma appunto nuovi manti stradali e anche segnaletica orizzontale, quindi avete investito tante risorse su questo tipo di lavoro. Sì, abbiamo investito molto anche nel decoro urbano, nella segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, molto nella sicurezza stradale, abbiamo ancora in programma altre aspettature, poi abbiamo interloquito molto anche con lo Stato per sistemare, asfaltare e fare segnaletica sulle strade statali che riguardavano Vallefoglia, sulle strade della provincia. Abbiamo messo molte risorse anche sugli impianti sportivi, sulle palestre, un milione di euro, una palestra in legno realizzata da Subissati a Bottega di Vallefoglia dove si inaugurerà al nuovo teatro dentro l'anno e poi abbiamo messo 100 mila euro in una nuova palestra per il contenimento energetico, abbiamo tutte le illuminazioni, una milionata sulle lampada LED e quindi abbiamo cercato di investire molto sugli impianti sportivi perché i ragazzi sulle scuole e le famiglie, tutte le scuole messe a nuovo e quelle realizzate sono state realizzate tutte in legno, penso alla scuola Federico Montefeltro vicino al municipio, predisposta ad un piano perché siamo in crescita quindi pronta per essere raddoppiata qualora dovesse servire, ma anche per gli impianti sportivi perché i giovani oggi dove li trovi? Li trovi nella pallavola, nella pallacanestro, nel calcio, abbiamo investito tantissimo sugli impianti sportivi, penso il campo in sintetica Morciola a 800 mila euro e altri 80 più 20 sul campo Spadoni a Montecchio dove dopo la fusione fra Gallo e Montecchio competiamo con con città importanti come Urbino, come Urbani, insomma centri importanti puntando sempre più in alto insomma perché abbiamo la serie A femminile però abbiamo la serie C maschile femminile sempre di pallavolo, abbiamo diciamo una quantità di ragazze e ragazzi che sono le discipline sportive e le scuole, le scuole, la prima legislatura abbiamo speso quasi tutte le risorse nelle scuole e poi abbiamo fatto anche per una milionata l'estinzione di vecchi mutui, ventennali, trentennali che erano lì da tanti anni nei due escomuni e abbiamo liberato risorse nel bilancio ordinario poi abbiamo ancora delle risorse, vedremo adesso a rendiconto del 2023 avremo altre risorse e poi abbiamo un bel numero di risorse anche per eventuali contenziosi perché devi sempre lasciare quindi abbiamo fatto buona amministrazione, abbiamo fatto tutto quello che era immaginabile possibile tant'è che insomma anche quelli che magari non gli stiamo simpatici fanno fatica a dire che non abbiamo fatto le cose quindi diciamo che c'è molta soddisfazione all'opione pubblica di come abbiamo operato e questo ti dà anche ancora voglia di fare, orgoglio diciamo per uno che fa la politica con passione è davvero è orgoglioso di quello che ha fatto sì ma poi ti riempie di gioia e di felicità perché fondamentalmente uno fa il sindaco della terza città di Vallefoglia ma io avevo fatto tante altre esperienze la gratitudine è solo quella di un riconoscimento di tante cose fatte che la gente ogni tanto ti ferma per strada, ti critica ma ti ringrazia anche oppure manda messaggini bravi, bravissimi quindi quello ti dà ancora voglia di fare e di andare fino all'ultimo giorno con la stessa velocità io fino al 7 di giugno lavorerò come ho iniziato dal primo giorno e poi sindaco? Perché non può avere un terzo mandato appunto per le leggi vigenti questo si vedrà, io penso che avrei diritto come tutti i cittadini anche di godere una vita e riposarmi anche perché lei lo racconta spesso però la politica è nel mio DNA io faccio vita politica per servire la comunità potrebbe farlo in un altro comune? no, ancora non ci sono regole chiare posto che io, come ho detto, ho diritto a riposare però ancora non ci sono regole chiare non si sa se fanno le elezioni dirette del Presidente della Provincia se consentono e fino a quanti abitanti di fare il terzo mandato perché solo in Italia, in tutta Europa non c'è un limite di mandati in alcuni paesi c'è il limite di tre mandati da noi non c'è il limite di mandato per i parlamentari per i consigli regionali c'è solo il limite di mandato per i comuni e le province non è detto che io debba o che qualcuno mi chieda fare ancora vita politica, vita pubblica e poi bisogna vedere se c'è doppio turno turno unico e poi bisogna vedere se ci sono altre fusioni o meno perché come ho detto le fusioni servono alla comunità ai cittadini per fare i servizi non a chi fa il sindaco è chiaro che se fai tre comuni una fusione non ci sono tre sindaci e quindici assessori c'è un sindaco e quindici assessori ma è importante che quei soldi servano e li liberi per fare le cose di cittadini per la comunità stessa vedremo al momento opportuno se uno ha ancora passione e voglia o se qualcuno te lo chiede io non mi sono mai avuto candidata a nulla non credo di cambiare idea adesso però nella vita non si sa mai però è sempre rimasto a disposizione della comunità e quindi io sono convinta che in qualche modo anche riposando un po' di più comunque ci rimanga un'altra notizia di oggi sono iniziati i lavori per la ciclovia turistica del Foglia appunto questa mattina ne avete parlato dobbiamo avere una slide e questo grazie alla Regione Marche Sì, noi abbiamo già oltre 20 km di piste ciclopedonali io la prima ciclopedonale l'ho fatta quando ero sindaco di Colbordo qualche anno fa un po' di anni fa e quindi le piste ciclopedonali servono per dare più sicurezza ai pedoni ai ragazzini che vanno a scuola alle persone più anziane e poi come la piscina serve alle persone che hanno bisogno di riabilitazione alle persone più giovani alle persone più anziane eccetera altri 5 km su Vallefoglia già finanziate dalla precedente amministrazione regionale e portate avanti ogni tanto mi sento con l'assessore Baldelli con gli assessori attuali per cercare di realizzare quanto prima sono già iniziati i lavori spero che nel giro di un po' di mesi si possano ultimare i lavori quindi bypassiamo oltre 25 km di ciclopedonali tutta l'asta del Foglia è da Pesero quindi anche per i vari collegamenti tra comuni sì, da Pesero fino a Borgo Massano Pantiere verso Schietti sono tutte piste ciclopedonali spesso e volentieri lungo l'asta fluviale del Foglia quindi a chi piace l'ambiente il silenzio, la natura e chi ha magari tempo libero veramente sono delle opere importanti quindi io ringrazio la regione quella di prima e quella di oggi perché insomma io sono uno che mi piace ringraziare non mi piacciono gli ingrati quando uno ti aiuta ti dà una mano tu ringrazia certo e questo appunto è il caso passiamo invece alle foto rimanendo in tema delle notizie degli ultimi giorni inerenti al 4 di novembre per le celebrazioni e ci sono stati veramente tanti ragazzi in piazza oltre alle varie autorità sin a questi momenti celebrativi dove è sempre importante appunto la presenza dei giovani sì la festa dell'unità nazionale delle forze armate in un momento drammatico dove ci sono tante guerre e non solo quella diciamo fra Israele e Palestina fra gli russi e gli ucraini ma anche tante altre dimenticate è stata giornata importante un grazie alle scuole perché la scuola di Pian del Brusco è una scuola media con 1200 ragazzi e 200 alunni e 200 professori è una scuola che ha anche un'orchestra un coro di giovani giovanissimi tantissimi ragazzi e c'era una bella presenza anche di genitori quindi è stata una bella cerimonia poi c'è stata una cerimonia anche religiosa il giorno dopo la domenica a Morciola nella chiesa di Morciola e quindi diciamo che è stata una giornata importante di riflessione su come gli esseri umani non imparano mai dalla storia perché purtroppo come dice il Papa che Borretto va un auspicio di buona salute e noi rischiamo se non stiamo attenti di andare verso la terza guerra mondiale quindi sarebbe veramente una tragedia dell'umanità quindi ricordare le diciamo giornate importanti come abbiamo fatto è un dovere istituzionale ma anche educare alla pace alla legalità alla democrazia alla libertà credo che non siano mai retoriche insomma ecco vediamo ancora queste immagini molto belle e significative cambiamo adesso decisamente argomento perché il Comune di Vallefoglia ha disposto di aderire all'Associazione Rete dei Comuni Sostenibili questo che cosa significa Sindaco che cosa può comportare ma significa avere un occhio di grande attenzione ai temi dell'ecologia dell'ambiente della sostenibilità ho già detto il nostro Comune è in legno le scuole sono prevalentemente in legno l'illuminazione pubblica noi abbiamo sostituito risparmiando la metà rispetto a quel che spendevamo prima tutte le lampade con le lampade a led significa fare per esempio tutte le strutture che abbiamo fatto per le ricariche non solo delle biciclette ma delle auto elettriche significa agire quotidianamente nel risparmio energetico significa agire quotidianamente dentro un altro mondo possibile un mondo in cui i temi dell'ambiente dell'inquinamento atmosferico della tutela dell'ecologia dei nostri fiumi non è un caso che il raddoppio del depuratore serve e a Montecchia anche quello ma serve Montelabate Tavuglia serve Petriano serve Monte Calvo serve tutti quei comuni confinanti e l'asta fluviale del foglio dell'Apsa rispetto ai fiumi cinesi che io ho visto che sembra delle fogne a cielo aperto da noi non dico si raccoglie l'acqua minerale ma quasi perché anche le nostre industrie hanno provveduto ad avere tutti i depuratori e quindi diciamo voler bene all'ambiente e voler bene al futuro voler bene a quei ragazzi che abbiamo visto prima perché noi dovremmo lasciare un ambiente un paesaggio una storia diciamo migliore di quella che abbiamo visto in questi anni quindi aderiremo raccoglieremo tutte le azioni positive e avrete anche dei professionisti abbiamo una collaborazione con la rete dei comuni sostenibili per arrivare forse anche ad una pubblicazione di tutte le azioni fatte nella direzione dell'ambiente dell'ecologia della sostenibilità e di uno come me che sogna un mondo diverso perfetto un mondo in cui non ci sia tutto questo che oggi conosciamo che è l'inquinamento atmosferico che è la mancanza di trattamento dei rifiuti l'attenzione sui temi dell'ecologia che riguarda l'azione quotidiana di ognuno di noi invece al fianco di imprenditori e cittadini ci sarà un facilitatore digitale che tipo di figura è? Sì abbiamo presentato insieme all'assessore regionale nella sede dell'Unione dei Comuni e Pian del Bruscolo sono delle persone che aiutano quelli come me che non sa maneggiare proprio al 100% tutti i giocattoli delle nuove tecnologie e vengono lì le persone e questi gli danno una mano a utilizzare ci sono proprio dei punti dislocati ci sono all'Unione dei Comuni ci sono in ogni singolo comune quindi le persone diciamo soprattutto meno giovani perché i ragazzi oramai oggi sanno fare quasi tutto attraverso il telefonino però vai in comune ti insegnano come si fanno le pratiche attraverso le nuove tecnologie diversamente dovresti o ti danno una mano blocchi anche il buon funzionamento della macchina comunale quindi è una cosa molto importante abbiamo chiesto alla regione di rifinanziarla e speriamo che questo avvenga Sindaco siamo in chiusura perché abbiamo pochissimi minuti io spero di poterla riavere nei prossimi mesi anche perché siamo curiosi di capire quale sarà il suo futuro politico dunque grazie intanto per essere tornato nei nostri studi e appunto speriamo di riaverla a presto grazie a lei grazie a voi e grazie agli ascoltatori grazie anche alla nostra regia Riccardo Sovra e Cristiana Guerra e noi ci vediamo alle 20 e 30 con il nostro telegiornale a dopo